E va bene. Finiscimi. Non hai niente da dire al tuo dio, o al re. Ho giurato di servire Burgred fino alla morte. Ho lottato e ho perso. Sappiamo entrambi come finirà. Alzati, Leofrid. Potrai combattere ancora. Cosa? La tua lealtà nei confronti di Burgred è mal riposta. Ha rinunciato al trono e si è diretto a Roma. È fuggito. Tu menti. Mentire a un uomo in punto di morte, a che servirebbe? Ha salvato se stesso, lasciando te a morire. Hai combattuto per niente, per nessuno. Tradire un uomo così fidato e leale è un disonore tale da valere mille morti. Eivor, mi hai dimostrato grande rispetto. È... È doveroso che io ricambi il favore. A Venonis c'è una statua con una pergamena in un vaso. Devi bruciarla. Perché? Reca il tuo nome. L'ho scritto io, su ordine di Burgred. Quando gli accoliti la leggeranno. Ma togli la leggeranno. ti daranno la caccia che sono ora non ha importanza non hai molto tempo brucia la pergamena o ti inseguiranno per sempre dove andrai ora a roma forza torniamo indietro attento sei ferito sto bene davvero ho solo qualche graffio dalla battaglia tutto qui eccola la statua che utilizzano gli accoliti fatto rimangono solo fumo e cenere quegli accoliti mi lasceranno in pace grazie